Cari amici che come me amate la verità, un saluto da Nat Russo. Oggi vorrei raccontarvi la mia verità per favore sul coefficiente di Gini, cioè quel coefficiente introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini che misura la diseguaglianza di una distribuzione del reddito. Questo valore è un numero compreso tra 0 ed 1, valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, cioè tutti percepiscono esattamente lo stesso vero. Valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più deseguale con un valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione. Una persona percepisce tutto il reddito del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo. Ebbè, i paesi a coefficienti di Gini più basso sono i paesi dove il reddito è distribuito più equamente. Al contrario, quelli a coefficienti di Gini più elevato sono quelli dove la diseguaglianza nella distribuzione del reddito è maggiore. Ora, se osserviamo la mappa mondiale del coefficiente di Gini sul reddito si nota che i paesi scandinavi sono quelli dove il reddito è più equamente distribuito, seguono la Germania, l'Austria, il Belgio, eccetera. La maggiore parte delle nazioni europee sviluppate ha i coefficienti di Gini compresi tra 0,24 e 0,36. Questo è un valore anche per l'Australia e il Canada. Negli Stati Uniti d'America invece già è 0,4, quindi c'è molta più ingiusta distribuzione, indicando una maggiore diseguaglianza di reddito nella popolazione statunitense. L'uso del coefficiente di Gini può aiutare nella quantificazione delle differenze nella politica e nella filosofia adottata per il benessere e per gli stipendi. Per oggi è tutto, un saluto da Natalusso, a presto!